quando è nella parte poi chiediamo qua al mister se si fa la foto ho spagato anche le forbici non avresti più a tagliare come vuoi tagliare una rosa indiretta una rosa indiretta è una soddisfazione io vivo io so più di quello soddisfazione noi dormito qua non ho tenuto qua eh sì perché se no come fai solo un giorno uno può venire anche solo un giorno ma solo un giorno di rifuoco eh devi venire poi io a vedere qualcosa di bene devi venire già a CIS il prossimo anno dov'è? a CIS il prossimo anno tutto il pomaggio tutto tutto qui è omaggio poi ti senti a prendere un'altra guarda quella che ti piace li attacchiamo dice mi ha dato dei 50 anni guarda qui la fuga a 15 anni ecco a 15 anni a 15 anni c'è il prossimo anno